Dottoressa, una situazione un po' complicata, si sta venendo a verificare dopo le ondate Covid del 2020 e dell'inizio 2021, una situazione nella quale sembra che i principali protagonisti siano i bambini o i ragazzi. Sì, in effetti questa quarta ondata ci ha trovato un attimo in difficoltà perché probabilmente non ce l'aspettavamo di questa portata. Sicuramente le nuove varianti, prima la Delta e poi questa Omicron, hanno avuto un impatto importante perché sono altamente contagiose. Ovviamente i bambini sono un serbatoio di queste due varianti, sono un serbatoio per due motivi. Uno, perché contagiano di più questa fascia di età, mentre la prima forma di SARS contagiava meno, la fascia 5-11. E questo è un dato caratteristico proprio del virus stesso. Ma l'altro fattore è sicuramente il tema vaccinazione, che non sono protetti. Quindi i virus sappiamo che vanno dove possono circolare, si autoselezionano e vanno nei contesti dove trovano possibilità di diffondersi. E quindi sicuramente i bambini in questa quarta ondata hanno avuto un impatto importante e danno tuttora un impatto assolutamente rilevante. La sanità, quindi anche il mondo scientifico e il comitato tecnico-scientifico a livello nazionale, chiama anche questa fascia d'età alla vaccinazione, dandole un'importanza basilare soprattutto per evitare che il contagio si allarghi dai bambini, anche ai genitori, chiamiamoli così, anche ai nonni. Allora sì, diciamo che tutti gli enti regolatori, prima l'ente regolatorio americano, a seguire l'ente regolatorio europeo e quello italiano, hanno approvato questo vaccino. Questo vuole dire che il vaccino ha un profilo di sicurezza buono, ma non solo ha un profilo di sicurezza buono, ma significa che il rapporto rischio-beneficio è favorevole, cioè significa che contrarre la malattia è più rischioso rispetto alla vaccinazione. Direi che dall'inizio dell'approvazione ad oggi questo è ancora più evidente, nel senso che c'è, e penso che sia sotto gli occhi di tutti, un'altissima circolazione del virus e a fronte di un'altissima circolazione possiamo ben capire che le complicanze, che ci sono anche nei bambini, che sono dell'ordine, le complicanze gravi di 2-3 casi su 1000 per i ricoveri e quindi per la necessità di avere terapie non a domicilio o ricoveri anche che richiedono la terapia intensiva, parliamo di 1 su 100.000, su numeri grandi e parliamo di numeri grandi, evidentemente iniziamo a vedere anche i ricoveri nei bambini. A fronte invece di una vaccinazione che ha un profilo di sicurezza altissimo, dove gli effetti collaterali gravi, che comunque dai primi dati scientifici sono effetti collaterali gravi, reversibili, che portano poi a non avere sequele, parliamo dell'ordine di 1-2 a 100.000, quindi diciamo che è peggio ammalarsi di Covid nei bambini di questa fascia di età rispetto a una vaccinazione che ha un profilo di sicurezza direi altissimo, poi sicuramente nelle prossime settimane e mesi avremo anche dati più certi, più sicuri, però la vaccinazione è già stata sperimentata e fatta in numero di bambini elevatissimo. L'importanza del vaccino e del vaccino immediatamente, nei prossimi giorni, sarà basilare? Allora, è basilare e io vorrei sottolineare che è basilare prima di tutto per il bambino stesso, perché un po' la frase che sento dire anche da genitori in realtà che hanno solo qualche dubbio, ma poi che vaccinano i loro bambini, è che questa vaccinazione viene fatta per proteggere gli altri. Questo è una verità parziale, cioè il vaccino serve in primis per il bambino stesso e ha un valore sia rispetto alla protezione della malattia e i dati ve li ho menzionati, perché la malattia può avere effetti gravi anche nei bambini, tanto più se sono bambini con malattie croniche e quindi mi raccomando, i bambini con malattie devono essere vaccinati e subito. Ma c'è anche un effetto benefico rispetto all'impatto che può avere la vaccinazione in questa fascia di età, rispetto alla possibilità di tornare a una vita normale e quindi a una frequenza scolastica regolare, alla non effettuazione continua di tamponi, a poter frequentare gli amici, lo sport, fare le feste di compleanno, che sembra una banalità, ma in realtà tutte queste attività che sono basilari e fondamentali per il benessere psicofisico dei bambini hanno avuto una forte riduzione e questo ha determinato una diffusione dei disturbi d'ansia che non sono poco rilevanti nei bambini, sono estremamente rilevanti. Quindi protezione dalla malattia con un vaccino sicuro, ma protezione anche dagli affetti avversi che abbiamo dovuti alle restrizioni della diffusione della malattia, che probabilmente avremo sempre meno se la popolazione si vaccinerà, compresa la popolazione pediatrica. Direi che l'appello potrebbe essere quello di chiedere alle famiglie di vaccinare i propri bambini prima del ritorno nelle scuole di vario genere, ma soprattutto 5, 11, 12 anni. Sì, la campagna vaccinale direi che è iniziata in un momento propizio e quindi si può proprio sfruttare questo periodo di vacanza per poter arrivare a scuola con una e a volte anche due dosi di vaccino già fatto. Questo sarà importantissimo per riprendere la scuola con più normalità ed evitare tutte le quarantene, le dad che sono state tantissime, soprattutto nel mese di dicembre. I genitori lo sanno perché penso che tutti abbiano vissuto la necessità di dover fare tamponi, quarantene e didattica a distanza e la vaccinazione potrà ridurre nettamente. Insomma, il rientro a scuola con una buona percentuale di vaccinati è fondamentale. Devo dire che la provincia di Modena, e qui ringrazio veramente tutti noi, ma anche la pediatria di comunità, ha fatto uno sforzo enorme perché ha effettuato una chiamata attiva, non è così dappertutto, cioè ha mandato l'SMS a tutti i genitori, cioè entro la fine di gennaio tutte le famiglie potranno fare la vaccinazione ai propri bambini. Questo è un sforzo enorme dal punto di vista sanitario e quindi sfruttiamolo perché non tutti hanno questa possibilità, non tutti in Italia ma non tutti anche in altri paesi.